Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi vi farò vedere come fare con la maglietta Allora Qua sotto in descrizione vi faccio vedere il video di vista Dovevo andare su casuale, 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 casuale No, non è questo Casuale, casuale Oh, casuale, casuale Casuale, casuale Io ora, in questo caso, lo rifaccio perché non me l'ha dato Casuale, casuale No Fin quando non vedete questo Dovete andare subito qua e poi uscite subito Poi io, visto che ho già fatto, dice Centro, fa, già, no? Allora Però Bisogna scrivere delle parole che la prima è Mi sembra Non me lo ricordo Vabbè È una parola segreta che vi arriva nelle mail dopo essere entrati e usciti Se no me la metto qua sotto in descrizione del video di vista Poi dovete fare Dopo un po' di tempo vi fa fare un giochetto Che è un po' così a caso Anche se non lo Non è impossibile da finire Però Anche se non lo finite Che avete perso Che se ne tanto vi prende lo stesso Poi vi arrivano tante mail Fino alla fine che vi arriva un'email Sì, sì, c'è mio papà Sono tutto bagnato Ok? L'email è questa No, chissene se non potete leggere Perché Tanto poi a voi arriverà Poi andrete Dovete andare qua Io intanto mi vesto così Ora andate su magliette E qua Davanti alla E Ci dovrebbe essere scritto Ci dovrebbe essere Una stellina Gialla Poi Schiacciate questo tasto Per andare più velocemente E come vedete Dice Maglietta Cosa? 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 Scolo Scolo No, questo Maglietta Fello Scolo A B Poi cliccate con Seleziona E come vedete Avete questa maglia Ma cos'è il tuo sangue qui? Purtroppo I pantaloni Non esistono Vabbè Ciao ciao Andrati